Ciao a tutti, se state guardando questo video come me vi sarete imbattuti nella visualizzazione di un video realizzato sotto Android e visualizzato con VLC sotto Windows ma penso che lo stesso problema si ripercuota anche con altri sistemi operativi comunque, ad esempio prendo questo video che ho realizzato sul mio Android, notavo questa striscia verde che in nessuna maniera si riusciva a risolvere andando magari nelle impostazioni video e provando a variare le impostazioni di proporzione di ritaglio del video la soluzione invece la si trova andando nel menu strumenti, preferenze, nella scheda video impostando la voce uscita anziché sulla predefinita automatico andando a impostare OpenGL per Windows o magari OpenGL se magari ci si trova su altri sistemi operativi tipo Linux o Mac quindi in questo caso io ho impostato OpenGL per Windows, ho salvato quindi chiudendo e riaprendo il file la barra scompare poi se si volesse eliminare la sovraimpressione del titolo del file all'apertura come prima, come questa scritta in questo caso basta andare in Strumenti, Preferenze visualizzando tutte le impostazioni andando in Video basta selezionare questa voce mostra titolo del media nel video salvare chiudere il file e riaprirlo in questa maniera all'apertura non viene sovraimpresso nel titolo del file ok, con questo è tutto e spero di aver risolto un problema anche vostro saluti ok, con questo è tutto